I Triloc, I Triloc, tu sei virtuoso, ma tu non stopi di studiare, praticare e imparare, è vero? Non credo che sia virtuoso. La musica è sempre una cosa così grande. È una cosa molto spirituale per me, per me. Lo faccio per la mia conoscenza, per me, all'interno. Ma tu sei anche molto curioso, quali sono le ultime esplorazioni della tua carriera musicale? Ho fatto una grande band, faccio anche un trio con Paolo Fresu e Omar Sosa. Faccio il mio gruppo, che è solo per la trompetta, per Don Cherry, per Handel, per il classico. E faccio anche il classico. E questa volta ho cercato di fare qualcosa con l'orchestra, con la stringa. di un'orchestra. A volte la tua musica è una combinazione dell'orchestra e dell'orchestra. Quali sono le insegni della musica classica indiana che hai sempre guardato in mente? E cosa hai aprenduto, in particolare, da le tradizioni occidentali? Le tradizioni occidentali, direi, da Bach, da Beethoven. Questo ho studiato. Vivaldi o Virtuoso. È un instrumento, da l'India è il vocale. E l'improvisazione da l'India. E anche dal jazz. Ma anche dal musica contemporanea, dal rock. E tutto. Mi piace tutto. Quindi ho usato questo concetto. È un'esperienza della mia vita. È un'esperienza della mia vita. E per giocare con altri musicisti, le contrazioni sono sempre collegate con interplay, con musical temi. Quali sono i limiti per giocare solo? No. È un'esperienza della cosa. Solo è un'esperienza di creare. I'm not a virtuoso. I don't prepare. I can. I like. But I like to compose. I like to compose my own music. I like to compose bass. I like to compose melody. So. It's not a limitation. It's another way of expression. To play solo. It's another way. How to stretch one thing. How to develop things. Which you don't get to do in the group. Nowadays. is. Which is the relation between your instrument that are very physical and the growing possibilities given by electronics? Oh, I love electronics. I really enjoy playing. I like to make the mix of both. Blend. Blend of both. To make it sound still, keep acoustic. As you told us, you recently celebrated Don Cherry. And he was at the beginning of the musical Utopia. How do you celebrate him? No. I just play a tribute. I give a tribute to him. Or take some of his tunes and rearrange it. And make people aware that he was one of the most top innovators. and multi-cultural instrument musicians who knew a lot about all cultures. How did you develop your interest in cooking and cuisines? Which are the cuisines you like better? And at last, what about fusion cuisine? Oh no. I like all kinds of cuisine. I mean, if I'm in Europe, it's Italian first for me. And the wine, I do wine tasting also. I like some North Spanish in Europe. Italian is first preference. I like Japanese food in Asia. Of course, Indian food, Thai. I like all kinds of food. But not this British and American food. I'm not so used to it. I can say it's too far away from my taste. But I like good wine. I think I have good Barbaresco. I do wine tasting in Barolo and also in France. I know a lot of good wineries. Maybe some people will come. I was having dinner in Fontana Freda. And I saw Angelo Gaia eating. He had a good Barolo. So traveling is not that bad? No. Travel to do this is good. For music is bad. I tell you. It's really getting bad. It's not so easy. Traveling is... You are limited to only take some instruments. So I have to ask everybody. Can you get me? Because I can only take 20 kilos. And... So... This is good for me also. It's a good thing for me to learn to play with few instruments. Thank you very much. Thank you. Thanks a lot. Thank you.